9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e sequestro di beni per 8 milioni di euro sono le cifre dell'operazione denominata Ceralacca, condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Le persone arrestate sono Giuseppe Bagalà del 57, Carmelo Bagalà, Francesco Bagalà e Giuseppe Bagalà dell'88, con loro anche Mario Italo Torresani, Domenico Lamonica, Antonio De Clariti Stresa, Luigi D'Amico, Antonio Scaramuzzino. I primi quattro sono titolari di un gruppo imprenditoriale che con la complicità delle altre persone citate, dipendenti della SUAP e dell'amministrazione provinciale, erano riusciti a manipolare appalti pubblici. In effetti troppo sospetti erano apparsi gli ottimi risultati che il gruppo conseguiva nell'aggiudicarsi gare bandite dalla stazione unica appaltante di Reggio Calabria. Così la Guardia di Finanza e la Procura di Reggio hanno avviato indagini sotto il coordinamento del sostituto procuratore Matteo Centini. Importanti si sono rivelate le intercettazioni ambientali e telefoniche, certosino il lavoro di studio sotto la lente di ingrandimento migliaia di buste cera laccate, da qui il nome dell'inchiesta, contenenti le offerte. Buste che sono state prese letteralmente in possesso dai Bagalà al fine di verificare le offerte di altre imprese concorrenti e regolarsi di conseguenza. Gli investigatori hanno evidenziato che grazie alla disponibilità di funzionari e dipendenti degli enti già citati, i Bagalà avevano le chiavi addirittura degli uffici Sorical e della provincia di Reggio Calabria. In questo contesto sono stati arrestati, già citati, i Torresani, la Monica De Clariti-Stresa, D'Amico Scaramuzzino, rispettivamente responsabili ufficio gare appalti Sorical di Catanzaro, segretario dello stesso ufficio catanzarese, dipendenti della provincia e funzionario della Sorical. Sono state, sottoposte a sequestro, le aziende Isotec, Ediltec e Ime, un'autovettura e sei autocarri. I particolari dell'operazione sono stati resi noti in una conferenza stampa del comando gruppo delle Fiamme Gialle, presenti gli alti vertici del corpo, guidati dal colonnello Cosimo Di Gesù, il procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone e il suo sostituto Sferlazzo Natoli. Dopo tanta cronaca però è giusto evidenziare un aspetto che ha una sua importanza etica, a dare impulso notevole alle indagini anche la denuncia di una solerte dirigente dell'amministrazione provinciale, insospettita da certe... Continua a fare discutere la sentenza del processo crimine a Reggio Calabria in cui le pene combinate sono risultate senza dubbio inferiori a quelle richieste dall'accusa. Il dato importante è che il giudice ha riconosciuto l'esistenza della provincia, sono stati condannati i promotori dell'associazione ai quali avevamo contestato esclusivamente il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri. Già negli anni Ottanta, dice Gratteri, si è avuta la conferma dell'esistenza dei locali in Lombardia e la presenza dell'andrangheta in Piemonte risale addirittura alla metà degli anni Settanta. Per il procuratore la novità di oggi è che è stato sconfitto il teorema che voleva l'andrangheta del nord impegnato in un processo secessionista. Chi sognava la secessione, come Carmelo Novella, fu prima posato, cioè secondo il lessico andranghetista messo da parte, e successivamente è stato ucciso vicino a Milano. Si aggrava in appello la posizione di Andrea Corrado, condannato a 24 anni e due mesi per l'omicidio di Giuseppe Cavallo, 27enne ucciso a Papanice il 25 marzo del 2008. L'accusa chiede oggi la riapertura dell'istruttoria dopo aver prodotto alcune dichiarazioni del pentito Pino Vrenna al PM Salvatore Curcio nel gennaio del 2010. Nelle sue dichiarazioni Pino Vrenna sostiene di aver incontrato in carcere il giovane e di essersi complimentato con lui per l'omicidio compiuto. Dichiarazione, quella fatta dal pentito al PM Curcio, che va ad aggravare ulteriormente la posizione del giovane Corrado. Il verbale della dichiarazione è stato depositato ieri dalla procuratore generale Raffaele Scorza nel processo d'appello, per il delitto per il quale Corrado nel dicembre del 2010 fu condannato. Pino Vrenna ha sostenuto di aver appreso da Rocco la ratta che andrà a Corrado dopo aver compiuto l'omicidio si nascose in una casa a Papanice. A seguito della deposizione l'udienza ieri è stata aggiornata per eventuali richieste dalla difesa che ha chiesto un termine per esaminare le carte. Il giovane, all'epoca dei fatti ventenne, è stato ritenuto autore di quell'omicidio, che, secondo la tesi della procura, avvenne risposta all'agguato avvenuto solo due giorni prima, nel quale fu assassinato il presunto boss Luca Megna e rimasero ferite la moglie e la figlioletta di appena cinque anni. Cavallo, infatti, era il marito di Rosa Russelli, cugina del presunto boss Leo Russelli, ritenuto dagli inquirenti a capo del clan che a Papanice si era schierato contro i Megna. La procura di Catanzaro sta valutando gli esiti degli interrogatori di alcuni ex consiglieri comunali di Catanzaro sentiti in qualità di persone a conoscenza dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sulla vicenda del Parco Romani. Gli inquirenti, attraverso le testimonianze raccolte, stanno ricostruendo l'iter amministrativo e stanno valutando eventuali violazioni circa la titolarità dei terreni su cui sorge il centro commerciale e la cessione alla comune di alcuni immobili. In particolare, la procura sta valutando la congruità dell'operazione svolta. Il materiale raccolto nel corso degli interrogatori viene ritenuto di estremo interesse per proseguire le indagini. Nel fascicolo dell'inchiesta c'è anche la denuncia presentata nei mesi scorsi dall'ex assessore comunale Fulvio Scarpino, che ha segnalato anomalie anche alla Corte dei Conti per un presunto danno erariale. Scarpino è stato sentito nelle settimane scorse come persona informata dei fatti. Scarpino è stato sentito nel corso del corso del corso del corso del corso del corso.